La casa è il rifugio sicuro di ogni italiano, ma se per varie ragioni non riesci più a pagare il mutuo regolarmente, rischi che venga messa all'asta, di perdere dal 50 al 70 per cento del valore dell'immobile e anche dopo l'asta di non riuscire a saldare il tuo debito. Prima di trovarti in questa situazione, rivolgiti a Stemar Casa. La nostra impresa farà una valutazione del tuo debito residuo. Acquistiamo l'immobile e ti liberiamo dei creditori saldando il tuo debito in modo definitivo. Contattaci oggi per ricevere una consulenza personalizzata. Stemar Casa. Dal 2002, la tua casa.